Vengo da una riunione con tutti i direttori generali delle ASL e con tutti i dipartimenti di prevenzione. Siamo purtroppo, come avevamo previsto, nella seconda ondata Covid e questa ovviamente è la notizia più importante di oggi. Abbiamo quindi dato disposizione di mobilitare esattamente nella stessa organizzazione di qualche mese fa tutti gli ospedali, tutti i dipartimenti di prevenzione. Verranno assunti immediatamente centinaia di infermieri e di operatori sanitari e verranno rinforzati i dipartimenti di prevenzione. Prevediamo, nelle prossime due o tre settimane al massimo, di avere un numero di contagi molto consistente, non diverso da quello degli altri paesi europei. Questo era previsto, non deve spaventare nessuno. Siamo perfettamente in sicurezza e la nostra capacità di gestire la pandemia è testata da un'esperienza lunga, da ore e ore di lavoro comune. E ho visto negli occhi dei direttori generali e di tutti i capi dei dipartimenti di prevenzione la stessa determinazione dei momenti più difficili. Quindi la Puglia è in campo e riusciremo a cavarcela anche questa volta. Naturalmente la differenza sta in questo, che gli ospedali dovranno continuare a funzionare anche per la sanità ordinaria e che il resto della società dovrà continuare a vivere. Voi continuerete a lavorare, ad andare in giro, dovremo preparare le scuole all'apertura. E chiaramente tutto questo prevede una capacità operativa di altissimo profilo. Io sono certo che tutta la Puglia sarà in grado di superare anche questa situazione così difficile.